Rubavano metalli pregiati e attrezzature costose nelle aziende della zona industriale di Brindisi e facevano razzia di pannelli solari, una organizzazione perfetta che pianificava i furti, li metteva a segno e piazzava il materiale rubato. 18 componenti della banda sono stati arrestati la notte scorsa dagli agenti della squadra mobile di Brindisi in collaborazione con personale della sezione volante e della Digos. Le indagini sono state coordinate dal pubblico ministero Marco D'Agostino, fra gli stabilimenti presi di mira quelli della Scandiuzzi e della Leucci Group. Alcune delle imprese stavano anche considerando la possibilità di trasferire altrove sedi e investimenti, fra gli arrestati c'è del personale delle stesse aziende. A carico delle persone colpite dalla misura cautelare sono ipotizzati i reati di associazione a delinquere finalizzata ai furti commessi in danno delle aziende della zona industriale di Brindisi e di ricettazione del materiale e delle attrezzature industriali asportate. Gli arrestati sono Gianluca Giosa, Orazio Lagatta, Davide Picciolo, Francesco Pugliese, Cosimo Schena, Giovanni Nigro, Andrea Baglivo, Antonio Cannone, Antonio Chiarelle, Emanuel Magri, Gianfranco Maiorano, Tiziano Martina, Diego Quarta, Arcangelo Urso, Giacomo Urso, Antonio Leo, Antonio Caforio e Raimondo Testini, gli ultimi tre già detenuti.